Siamo onorati di ospitare questa squadra di calcio al Teramo e speriamo che si trovi bene nella nostra località e che tutti i servizi siano all'altezza delle vostre aspettative e che portino i risultati che tutti noi speriamo per voi. Lo sport per la Valisola credo sia una cosa importante in tutti i campi, credo a 360 gradi, perché noi qui possiamo veramente avere la possibilità di dare l'opportunità a molti tipi di sport di svolgere le loro attività e i loro dettivi in modo proficuo. Le società sportive sono state qui in ritiro, credo, negli anni scorsi, senza dover fare nomi per non fare pubblicità, comunque anche di importanza nazionale grande, credo, sia rispetto al calcio, sia anche rispetto ad altre discipline sportive che si possono praticare in questa valle. Credo che il vantaggio sia dato soprattutto dal nome, la Val di Sole, credo ce ne sia una sola ed è unica e quindi il sole di per sé, credo, sia foriero di buone opportunità per tutti gli sport del mondo e quindi questo nome e l'offerta, evidentemente, turistica, sportiva che dà la valle, credo siano importanti.